Ciao a tutti, domani sabato 20 gennaio alle ore 14 a Libero Librati la Ternana affronterà il Cittadella con l'obiettivo di riscattarsi e questo è il succo della conferenza stampa del tecnico Rossoverde Roberto Breda che ha detto che i nostri ragazzi sono tutti motivati e hanno tutti voglia di riscattarsi su Gaston Pereira ha espresso bellissime parole dicendo che è arrivato con la convinzione e la voglia di far bene, ha espresso bellissime parole anche per Favilli che è tornato in gruppo ma ha detto che è stato sempre partecipe anche quando non ha giocato in questo gruppo per cui Roberto Breda ha detto che la nostra squadra ha ottimi valori e deve solamente dimostrarli per quanto riguarda l'avversario è espresso come le specularità del Cittadella sono quelle di non farti giocare ma la Ternana deve riuscire a tirar fuori la sua identità ecco domani servirà ancora una volta una prestazione perfetta, servirà una Ternana civica e concreta sotto porta, una Ternana che esprima al meglio le proprie qualità una Ternana che mantenga la stessa intensità per tutti i 90 minuti di gioco io vi ricordo che attiva la promozione chi trova un abbonato trova un tesoro praticamente per ogni abbonamento potrà essere fatto un biglietto ad un euro e vi ricordo il concorso fattore campo sul sito bktpremia.it dove potete vincere i premi per voi e dare una mano alla città di Ternana ad ottenere un progetto di riqualificazione territoriale per il resto non ci resta altro che aspettare domani quando alle 14 ci sarà il fischio di inizio di Ternana Cittadella